Il calciomercato della Sampdoria è entrato nel vivo con una trattativa avviata con il Milan per l'attaccante promettente Gabriele Alesi, classe 2004. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Secondo le fonti di Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha manifestato un vivo interesse verso il giovane talento del Milan, aprendo così la strada a una possibile trattativa. Gabriele Alesi, classe 2004, è uno dei gioielli più brillanti della primavera rossonera e la Sampdoria sembra decisa a puntare su di lui per arricchire la propria rosa con un talento emergente. Dopo aver completato il suo percorso di crescita nelle giovanili del Milan, l'attaccante si prepara a fare il grande salto tra i professionisti e potrebbe trovare spazio e nuove opportunità nella squadra blucerchiata. Nonostante la giovane età, Alesi ha già dimostrato di possedere una tecnica raffinata e un talento naturale nel segnare gol. La Sampdoria ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo e scommettere sul suo potenziale in campo. La trattativa tra Sampdoria e Milan è appena agli inizi, ma il desiderio di entrambi i club di portare avanti questo affare sembra essere solido. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli dell'accordo e capire se Gabriele Alesi diventerà un nuovo rinforzo per la squadra blucerchiata. Per il giovane attaccante, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per mettersi in mostra e dimostrare tutto il suo talento nel panorama del calcio professionistico. Allo stesso tempo, la Sampdoria punta ad aggiungere un tassello importante al proprio progetto di crescita e ambisce a formare una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione di Serie A. Resta da vedere come si evolverà questa trattativa e se Gabriele Alesi vestirà presto la maglia della Sampdoria per la sua prima avventura da professionista. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!